A Buccino il sindaco Nicola Parisi, unitamente all'amministrazione comunale, denunciano il totale abbandono da parte dell'ente della provincia di Salerno in cui versano le strade provinciali. Da mesi varie strade sono state interessate da eventi franosi derivanti da calamità naturali, episodi questi che rappresentano intralcio al traffico ordinario tra i comuni di Buccino e San Gregorio Magno, dove vi è da tempo un restringimento di carreggiata. Ad essere penalizzati dall'incresciosa situazione sono anche i comuni di Ricignano e Palomonte. Nel comune di Buccino addirittura è completamente chiusa al traffico la strada provinciale 63 che collega il piccolo paese salernitano alla stazione ferroviaria causando notevoli disagi alle popolazioni. Pertanto l'amministrazione comunale capitanata dal sindaco Parisi, considerata la gravità derivante da tali condizioni di disagio che durano ormai da molto tempo, attrezzandosi di picconi e pale in segno di protesta, hanno cominciato a liberare la strada provinciale di ECB tra i comuni di Buccino e San Gregorio Magno.